Ciao ragazzi, sapete che lunedì di solito è sempre off per i giocatori? Beh, direi che oggi mi va meglio. Perché? Guardate il camu di lunedì oggi. Siamo arrivati. Prima tappa, Riki. Direi DJ. Adesso intervistina su e poi vediamo cosa succede. Intervistina. Saluta, Riki. E se è anche che fine della sera... Eccoci! Ciao! Ciao! Mi faccio anche un regalo, perché mi hanno detto che a Natale siete stati buoni. Sì? E quindi vi ho portato un pensiero. Mi raccomando. Un po' di prosciutto? No! Mi ricordo, questa è la tua, pure per un simbolino. Sì, anche il mattino è la teglia. Grazie! E' un baciano. E' questa. E' il giallo cartegna. E' tre. Avevo una. Yeah! Un attimo. Che bravo, bravo. Un piacereone, grande. Un sacco, bravissimo. Seguiremo con passione. E io li seguirò a voi, assolutamente. Ma a voi è più facile seguirmi obiettivamente rispetto a me. Merendina con Visco. E' stranissima questa telecamera. È la dieta del giocatore questa? Assolutamente sì. Infatti... Cento per cento zu, sì. Zero grassi! Visco, ma parlando di giorno libero, tu che cosa fai nel tuo day off? Va, dipende dalle situazioni. Se vinciamo, sono un po' più predisposto a fare cose. Se invece perdiamo, sono un po' più predisposto a stare in casa e fare cose in casa. Sostanzialmente mi rilasso. Io sono un po' iperattivo, quindi faccio mille cose che possono essere i video o tantissime altre cose. Se non so, puoi leerarvi le situazioni più fighe. No, ragazzi, che è un biglietto da quarta parte. E niente, ragazzi, sono caduto nella trappola. Sei caduto nella trappola. Sono caduto nella trappola. Però sei felice per il momento. Per il momento sono felice. Sei in buone condizioni. Sei ancora giovane. Sei un bel ragazzo. C'hai tante qualità. Questi sono arrivati in tutti. Pesaro ha vinto. Benissimo. Questa è la cosa più bella. Un sacco di cose buone. E quindi vediamo tutto quanto... Io ho superato Gandini e fatta basket. È una festa. È un grande weekend, ragazzi. Un grande weekend. Guardate tutto sul canale YouTube di Tazona. Tazona del Gai. Tazona del Gai. Tazona del Gai. Io sto riprendendo tutto. No, vabbè, dai. Volete sapere il profumo? Preferite di Rikki Visconti? Ma non lo indovino mai. Come si sente bene? Come è andata a Visco? Abbiamo finito la diretta. Se non l'avete vista, guardatela sul canale YouTube. Per recap di questo day off. È molto divertente. Stancante. No, dai, è un viaggetto. Lo rifarei. Quante volte? Mille. Mille volte, mille volte. Sì, sì, sì. Ciao, Visco. Ci vediamo sui campi. Ci vediamo sui campi. Non muovere mai. Ah, Visco. Ti guarderei le prossime puntate di Come With Me? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao. Allora. Allora. ERB. Allora. 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 Grazie a tutti.